Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui sul canale di Flyer in C2 ovvero il canale di Ryder e Bicchia che ve lo prestano per impararvi come usare Photoshop per fare le anteprime dei viti mamma, mamma, mamma le faretto me lo accendi per favore che è lontano come si accende? è un interruttore, c'è, venghia allora questo intanto è Photoshop che ovviamente l'ho scaricato e dovete allora aprire un foglio di 1920x1080 nessuna immagine, va bene, porca puttana forse cercavi, ah vero si scrive Photoshop non sbagliate perché se no ci andate di bestemmioni questa qua la possiamo salvare, allora si fa salvo immagine con nome ecco poi per fare la copertina, giustamente siccome sono io che ve lo imparo Photoshop, allora ci mettiamo Piminchia ecco già trovo il suggerimento, allora Piminchia molto bene, ci sono già tutte le mie foto questa direi che va benissimo così vi imparo Photoshop Grimba che c'è no? guarda della merenda, vuoi una Grindelbrioche? sì grazie mamma, però per adesso stavo registr... va bene, pausa un attimino va bene, molto bene, mamma la carta per favore buttala e non era buona questo... come no? no era tipo la Grindel fasulla, la Grindel Trios eh sì l'ho preso il discount eh il discount però prendici sto cap... molto bene direi che qua già va bene però mettiamola bene perché deve essere quanto tutta l'immagine e poi ci mettiamo la mia faccia così ma bimba non lo vedi come lo fanno i Grindelbrioche? da degli scontornati direi che così ci siamo oh perfetto siccome su YouTube funziona così che i video se li fate voi e c'è la vostra faccia e non vi conosce un cazzo di nessuno non va bene, a me mi conoscono però siccome vi voglio dare il suggerimento normalmente ci dovresti mettere un culo o delle minne però stavolta mettete giù la faccia di uno YouTuber famoso allora subito noi ci mettiamo Raiden Replay Result ecco lo trovo allora Raiden di minchia ok qua sono tutte e due Raiden e minchia bimba si chiama Minna allora mettiamo la foto che è troppo grande quindi la stringiamo così così Raiden sembra più un bagro molto bene e facciamo così ok l'abbiamo fatta allora i font sono i caratteri il mio preferito è Comic Sans è bellissimo ragazzi è bellissimo allora lo facciamo così e mettiamo qua così molto bene visto che qua è venuto troppo vuoto come vi dicevo ci mettiamo un'immagine qualunque presa dalla mia libreria immagine cioè questa e la mettiamo più grande ma Bimbo perché tu avevi questa foto? perché mamma basta ci metto un'altra immagine presa dal mio repertorio immagine molto bene ce l'abbiamo fatta abbiamo fatto un ottimo anteprima per l'immagine e per il video e adesso mi raccomando ragazzi facetelo pure voi a casa e insegnatevi questo metodo perché imparartelo è facile e alla prossima ciao io adesso il brutto lo bimbo devi spegnere la telecamera spegnere tu per favore ma ma come si fa?